Sindaco Rotice, la città di Manfredonia è vicina e sostiene il premio Argosipium anche in questa edizione? Sì, lo sostiene vicino, il 29 luglio saremo lì, questo per far capire che in questa parte di città con il premio Argosipium si va a mettere su quel cartellone di manifestazioni estive che contengono tutti i tipi di attività, tutti i tipi di manifestazioni. Naturalmente questa è un'eccellenza tra le manifestazioni, è una manifestazione sulla quale puntiamo perché è strettamente legata anche alla realtà di Sipondo, alle scavi archeologici di Sipondo, le eccellenze sul nostro territorio, in una parte di territorio dove si sta riscoprendo una storia passata della nostra città. Ecco, quindi ha un senso anche più che affettivo ma anche un senso legato a quello che è la visione futura, la visione futura di una città che va verso il turismo culturale, verso l'arte. E quindi queste manifestazioni vanno a chiudere quel cartello di idee e di ambizione di una città come Manfredonia che ha detto basta con determinate attività e si punta su quest'altro modo di fare. Grazie. Grazie.